In questo video vedremo come configurare ed utilizzare l'EFC con protocollo Profinit. Accediamo al wizard. Dopo aver impostato i dati del motore e le limitazioni di frequenza, in command value impostiamo il parametro di sorgente di frequenza alla voce communication. Facciamo lo stesso nella sorgente di run. Infine assicuriamoci che in communication protocol sia selezionata la voce extension card. In basic settings selezioniamo il protocollo Profinit e clicchiamo sul tasto redotto per riavviare il dispositivo. Successivamente, in field bus settings, potremo trovare le nostre word AT ed MDT, ossia word discount. Possiamo aggiungere una o più word da questo elenco a tendina oppure accedere direttamente i parametri H3.30 e H3.31, rispettivamente AT ed MDT. dal master profinet, attraverso lo scan for devices, dopo aver caricato il file descrittivo del dispositivo, potremo trovare il nostro FC. Dopo questa configurazione riusciremo a comandare il motore dal PLC tramite bus di campo. Grazie. 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 Grazie.